Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 11 luglio. Ariete, luglio di vacanza, di mare, di sole, di movimento. Se lo desiderate potete anche saltare sul primo aereo e conquistare terre promesse. Però non perdete tempo con inutili chiacchiere perché certe considerazioni potrebbero risultare poco proficue. Toro, la luna nel segno crea aspetti negativi con Giove, Venere e Saturno. Scacciate i pensieri che indeboliscano la vostra autostima. Mettete in risalto le qualità. Fate attenzione, il vostro orgoglio potrebbe impedirvi di vedere gli spiragli positivi che ci sono. Gemelli, raccoglierete i frutti del vostro impegno e godrete di quel prestigio che avete perseguito con competenza, sourfair e serietà. Fate tesoro del buon momento, riallacciate i rapporti con amici che sapete in crisi e che avete perso di vista. Cancro, tutto sembra muoversi a vostro favore. Sfruttate le opportunità che vi regala la sorridente luna in toro. Canalizzate le energie in modo positivo. Godetevi questa giornata ricca di stimoli interessanti e letterizzanti di prospettive molto vantaggiose. Leone, organizzate un breve itinerario culturale in compagnia di amici o familiari, alla scoperta di località limitrofe con preziose opere d'arte. Dedicate più tempo in modo piacevole alle persone care che ultimamente si sono sentite un po' trascurate. Vergine, arginate le pretese eccessive di una parente che vi sta consumando le energie, proprio nel momento in cui vi servono per risolvere questioni personali. Se non sente ragioni, trovate un modo discreto per non frequentarlo, almeno per un po'. Bilancia, affrontate con coraggio alcune questioni che si sono manifestate in famiglia e se non vi scappa qualche parola di troppo, tutto tornerà normale. Riflettete su quello che vi dice un familiare, può essere molto d'aiuto per vivere la vostra vita sociale. Scorpione, la luna in toro crea un'opposizione a soturno del segno e voi ne soffrirete con un evidente desiderio di starvene un po' per conto vostro. Avvertirete una spiccata voglia di isolarvi, ma non assecondatela, anzi, state in compagnia dei vostri amici. Sagittario, oggi giornata senza infamie e senza lode per colpa della luna in toro, incomprensioni in famiglia, mentre la vita sociale sarà alquanto monotona. Con l'aiuto di un familiare di grande esperienza, otterrete però un obiettivo importante. Ringraziatelo. Capricorno, gioia per l'incontro con un amico caro. Dovrete però fare i conti anche con il rovescio della medaglia, risolvere una vecchia questione in sospeso. Ottimismo e autoironia vi accompagneranno per tutta la giornata. Sappiate sfruttare entrambi alla meglio. Aquario, vi sentite un po' nervosi e ansiosi? Un amico vi aiuterà a risolvere un problema che vi portate dietro da tempo. Ascoltatelo, è una persona in gamba. Saturno, in ostile quadratura, continua a pretendere da voi costanza, precisione e determinazione. Pesci, avete programmato un viaggio? Benissimo! Mercurio, favorevole, vi aiuterà a evitare disguidi e contrattempi. Piacevolissimi anche le gite fuori porta. Approfittate del tempo libero di questo sabato anche per l'ascolto di chi ha bisogno del vostro sostegno. Grazie a tutti!